È stata presentata a Roma la Fondazione FEIR, costituita su iniziativa di Sisal per affrontare con determinazione le sfide della tutela dei consumatori e del gioco responsabile in Italia. La Fondazione testimonia l'attività svolta da Sisal di studio e prevenzione del gioco problematico, con l'obiettivo di contribuire alla ricerca, all'ascolto e all'innovazione nel campo del gioco responsabile. FEIR infatti rappresenta una novità per la sua apertura a tutte le organizzazioni per coinvolgere e includere tutti gli attori del settore per affrontare in maniera scientifica la sfida cruciale per il futuro dell'industria del gioco. La Fondazione si propone di diventare un po' un punto di riferimento, di incontro tra i diversi attori interessati e coinvolti nel gioco, le imprese, le istituzioni, il sistema delle organizzazioni che si occupano dell'impatto del gioco e favorire un confronto e un dialogo partendo però da dati, evidenze concrete, affidabili per trovare le soluzioni migliori al gioco. Basata sull'analisi delle migliori pratiche a livello globale, la Fondazione si propone di offrire un modello unico di ricerca e studio indipendente, creando un ecosistema condiviso e accessibile a tutti. Contestualmente alla presentazione della Fondazione è stato illustrato anche il manifesto con cui Feire si propone di incidere sul futuro dell'industria del gioco, conoscere la realtà per comprendere e contrastare il gioco d'azzardo, proteggere i giocatori e sostenere strategie di prevenzione per favorire l'innovazione per il gioco responsabile. La Fondazione si impegnerà a promuovere un modello di ricerca indipendente per fornire dati e stimoli alle istituzioni e a tutti gli attori del settore, sostenendo l'adozione attiva di un modello condiviso di gioco responsabile, capace di portare in Italia proposte innovative e standard già sperimentati con successo all'estero. Grazie a tutti.